Ma quando mai? Ma chi l'ha detto questa bagianata? Guardi, questa è una bagianata vera e propria, perché io sono padre di due figlie, io sono marito di una moglie e fratello di due mogli e ho mia figlia che è mia madre, però con tutte loro ho un rapporto meraviglioso con tutte le donne. Le tengo in cantina, le vado a trovare due volte al giorno, gli porto la ciotola con la sua acqua, gli porto le sue crocchette con la sua acqua, con le crocchette. Ecco, in cantina possono fare quello che vogliono fin dove arriva la catena, perché poi gli viene voglia di parcheggiare. La catena? Io posso dire, io voglio fare un decreto legge dove le donne le tengono in cantina. Non si può. No, e se vogliono divorziare... Cosa? Ma cos'è il rogo? No, vecchia Giovannona. No, io rogo. Giovannona.